Il Critone di Platone è un dialogo che fa parte di una trilogia che Platone scrisse per ricordare la condanna a morte di Socrate, suo maestro, la prigionia e poi l'esecuzione tramite la cicuta. Nell'Apologia di Socrate Platone narra il processo, nel Critone narra la prigionia e nel Fedone narra poi la morte in cui Socrate prima di morire discute dell'immortalità dell'anima. Questo Critone è quindi mediano, intermedio tra il processo e la condanna e questo avviene perché il processo a Socrate nel 399 a.C. cadde durante le celebrazioni in onore di Apollo, per cui c'era una processione navale fino all'isola di Dello e che poi doveva tornare e allora i giudici decidono che finché la nave non è tornata da Dello e quindi la celebrazione non si è conclusa, non si possono fare esecuzioni capitali. E allora Socrate rimane in prigione per un bel po' e questo consente all'amico, a Critone appunto, amico di vecchia data di Socrate, di provare a farlo fuggire. Socrate gli propone una sorta di patto, io corrompo i secondini, i carcerieri e ti faccio scappare, ti faccio arrivare in Pestaglia oppure in un'altra parte, in un'altra città dove potrai salvarti. E Socrate, come sapete, rifiuta. E allora, dal punto di vista della trilogia, noi potremmo dire che questi tre dialoghi rappresentano una autodifesa di Socrate a tre livelli diversi. E' una lettura di questa trilogia che è stata fatta da un interprete fine del platonismo che si chiama Thomas Slezak, della scuola di Tubinga, che ha interpretato appunto la trilogia come una difesa a tre livelli. Il primo livello, di fronte ai giudici, è sul piano politico, giuridico, retorico, dove appunto Socrate si difende dalle accuse. Nel Critone, invece, l'autodifesa si sposta sul piano etico, sul piano morale, tanto che si potrebbe dire che è una rappresentazione delle virtù di Socrate. Cioè, Socrate mette in atto le virtù che ha sempre predicato. La giustizia, il coraggio, la sapienza, quelle che vengono chiamate le virtù cardinali, e vedremo in che modo. Mentre nel Fedone, che è il terzo, ed è anche la conclusione della trilogia, l'autodifesa va sul piano filosofico, metafisico, religioso, perché si parla dell'immortalità dell'anima, di quello che succede dopo la morte. Per cui sono tre momenti chiaramente ben scanditi. E in questo, appunto, come vi dicevo, la tematica è incentrata sulle virtù. Da un lato, Socrate parla della sapienza, quindi della coerenza tra quello che è sempre detto e quello che deve fare al momento decisivo. Perché lui ha la possibilità di sottrarsi, di sottrarsi alla morte, fuggendo. E naturalmente questa sapienza, questo esercizio della filosofia, lo porta a ragionare sulla giustizia, sulla legalità. Socrate è stato condannato secondo un processo, in una città democratica, con una votazione, 500 giudici che lo hanno condannato a morte, lo hanno riconosciuto colpevole di ateismo, di impietà, di corruzione dei giovani, per questo è stato condannato. Naturalmente lui ritiene la condanna ingiusta, la ritiene ingiusta, però non vuole trasgredire la legge. La sua fedeltà alla legge di Atene lo porta a preferire una condanna ingiusta piuttosto che trasgredire la legge. Detto in altri termini, preferisce subire un'ingiustizia piuttosto che commettere un'ingiustizia a costo della vita. E questo è un po' l'eroismo della coerenza di Socrate portata fino all'estremo, che si scontra naturalmente con il buonsenso di Critone, dell'amico che dice ma no, la condanna ingiusta scappa, al momento di scegliere tra vita e morte è meglio scegliere la vita. Quindi questo è il grande messaggio di Socrate che in fondo è anche un messaggio di non-violenza, di non-violenza perché Socrate dice ha un'ingiustizia anche violenta, non si risponde con un'altra ingiustizia. Quindi diventa un martire della giustizia e lo fa con grande coraggio, ecco un'altra virtù, con grande forza d'animo, con grande fortezza, perché affronta la morte senza averne paura. Quindi il grande confronto di Socrate al momento della morte è con un eroe omerico, Achille. Achille, c'è anche una citazione omerica, Socrate sta dormendo, sogna, e sogna una frase che era riferita ad Achille. A un certo punto Achille preferisce alla tentazione di sottrarsi alla battaglia e dice fra tre giorni mi metto in nave e torno a Ftia, a mia città natale, appunto in Tessaglia. Allora Socrate sogna questa frase e quindi questa frase da Critone viene interpretata come una sorta di invito a sfuggire in Tessaglia. Naturalmente né Achille si sottrasse alla battaglia, infatti poi rimase e sapete quando a finire, né Socrate si sottrae alla scelta finale, alla scelta di accettare la morte. Ebbene, da questo punto di vista è un grande messaggio morale, etico morale, ma anche un grande messaggio civile di rispetto della legge e naturalmente pone anche dei problemi. Di fronte a una legge che noi consideriamo ingiusta o una condanna ingiusta, come comportarci? C'è la possibilità, per esempio, dell'obiezione di coscienza? Questo è un caso che magari potremmo approfondire nel dibattito dopo, perché per esempio Martin Luther King sosteneva che la teoria della non-violenza la teoria della non-violenza si trova in due grandi testi dell'antichità. Naturalmente nel Vangelo, nel messaggio cristiano, porgi l'altra guancia, da non commettere alcuna violenza, e poi c'è proprio nel Critone. Il Critone è il grande dialogo filosofico sulla non-violenza. È meglio subire la justizia piuttosto che commetterla. E questo naturalmente è un messaggio che non è valido solamente per quel contesto storico dell'antichità di 2500 anni fa, ma è un comando morale valido per sempre e che quindi in qualche modo ci apprestiamo a rivivere e a ripensare. Grazie.